Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Fortunatamente c'è Papa Francesco che si occupa delle grandi sfide del presente e del futuro. Adesso ci facciamo un viaggio nelle cose che dovrebbero preoccuparci o sulle quali comunque vale la pena ragionare. Prima di tutto però indiscrezioni che circolano, togliamoci questo dente, si candida all'Europenic, vendola? Io ripeto per la ennesima volta, non è necessario militare nelle istituzioni per fare politica. Io mi sento in campo per fare politica, non considero assolutamente per me necessario, no. La vedo come un'ipotesi, diciamo, estranea ai miei interessi odierni. Ma c'è bisogno in questo momento di un'alternativa più forte a sinistra? Ma c'è bisogno di costruire una critica radicale di quello che sta accadendo nel mondo. In Europa, in Italia, l'avvelenamento delle relazioni tra le persone, tra i popoli, la normalizzazione della guerra, di una guerra che è tornata come, diciamo, una dimensione ordinaria, come un principio di governo del mondo. La corsa agli armamenti e viviamo un'epoca in cui è stata bandita dal vocabolario della politica la parola disarmo. Sono tutti con l'elmetto in testa, tutti reclutati. Anche il giornalismo a volte sembra embedded, cioè armato, a mano armata. Ecco, io credo che invece abbiamo bisogno di fare punto e di vedere che la situazione è talmente grave che avremo bisogno di dedicare le risorse fondamentali per sfamare il pianeta che muore. In una situazione invece che in un'altra. Mi fate vedere, c'era la foto di...